Tag Heuer Carrera Calibre 5, elegante e preciso. Il Carrera Calibre 5 fa parte della collezione Carrera, ispirata alle corse automobilistiche e al leggendario circuito messicano la Carrera Panamericana. Il nome Carrera significa «corsa» in spagnolo e richiama la passione per la velocità, l'avventura e lo spirito competitivo. Il quadrante del Carrera Calibre 5 è disponibile in diversi colori, nero, blu, argento o bianco. Il quadrante presenta degli indici applicati a mano, con finitura lucida o satinata a seconda del colore. Gli indici sono dotati di materiale luminescente per garantire una perfetta leggibilità anche al buio. Le lancette delle ore e dei minuti sono anche se luminescenti e presentano una forma a bastone, mentre la finestrella della data si può trovare a ore 3 o a ore 6 a seconda della versione, e in alcuni casi anche la finestrella indicante il giorno della settimana. Il quadrante è protetto da un cristallo zaffiro antigraffio, che assicura una resistenza ottimale agli urti e agli agenti atmosferici. Il cristallo zaffiro ha anche un trattamento antiriflesso su entrambi i lati, per evitare i riflessi fastidiosi e migliorare la visibilità. Il movimento che anima il Carrera Calibre 5 è il Calibro 5, un movimento automatico svizzero certificato dal COSC, Controllo Physiel Swiss de Cronometre, lente che garantisce la precisione e l'affidabilità degli orologi svizzeri. Il Calibro 5 ha una frequenza di 28.800 alternanze all'ora e una riserva di carica di circa 38 ore. Il movimento presenta le funzioni di ore, minuti, secondi e data. Il Carrera Calibre 5 è dotato di un cinturino in pelle di allegatore o in acciaio inossidabile, a seconda della versione scelta. Il cinturino in pelle ha una fibbia d'ardiglione con il logo Tag Heuer, mentre il cinturino in acciaio ha una chiusura deploiante con pulsanti di sicurezza. Se sei alla ricerca di un orologio che esprima la tua personalità e il tuo gusto, il Carrera Calibre 5 è quello che fa per te.